Vittoria e buona prestazione da parte del CUSN Caltanissetta di basket che al pala Gannizzaro batte i cugini del Gela e continua a scalare la classifica con l'obiettivo finale della vittoria del campionato. I ragazzi, guidati da Armando Torturici che veste i panni di coach ed allenatore, hanno sempre dominato il match dall'inizio alla fine dei quattro tempi, non soffrendo mai gli attacchi gelesi e facendo leva sulle ripartenze, vero punto di forza del CUSN. Noi stiamo provando a vincere il campionato, in casa al momento siamo imbattuti, oggi è stata una bellissima partita, un derby con gli amici gelesi, abbiamo perso l'andata in casa loro e oggi abbiamo vinto anche con la differenza canesta e siamo molto felici. Il nostro obiettivo è quello di crescere, il CUSN da casa a più di 20 giocatori adulti, nisseni, quindi è una cosa bellissima, più un ragazzo che si distingue particolarmente e che viene nella Trapani, che studia da noi. Il nostro obiettivo intanto è crescere, far crescere la realtà e se è possibile proveremo a vincere il campionato. Abbiamo perso finora due partite, una col Gela e una con Ragusa in trasferta, di pochissimo, di misura, con Ragusa la di quattro, quindi ora che la incontreremo in casa speriamo anche di vincere per differenza canestri. E questo è il nostro obiettivo, speriamo di vedere sempre più tifosi, oggi il palazzetto era bello gremito di persone, siamo molto felici del progetto. Grazie.